Buongiorno e bentrovati dalla nostra redazione di TG Razz Live 24. Dispetti felini continui dopo la dichiarazione del presidente del consiglio dei felini che aveva deciso di unire in un'unica stanza le due elettiere dei gatti pare che nonostante la precedente coesistenza pacifica da parte dei gatti adesso le cose siano peggiorate ma ci spiega meglio le cose il nostro inviato. È successo poco fa e lui Lione ha fatto la pipì nella lettiera dell'altra Lula e lei non deve averla presa bene, di fatti si è andata a nascondere dietro la porta e lui adesso è scappato ma pare che i carabinieri stiano già indagando i carabinieri del GIS per capire meglio quale sia stata la causa ma per il resto vi salutiamo. È stato sorpreso in flagranza di reato il nostro inviato che dopo un mese di isolamento aveva voglia di andare a mangiare fuori Sì grazie per la linea avevo voglia di mangiare fuori quindi mi sono attrezzato in questo periodo di isolamento Ma è già tutto pronto e adesso vado a mangiare fuori È ormai assodato che il nostro inviato stia passando un momento molto delicato e la sera pare che si diletti a cantare la Ninna a nanna al gatto la polizia psicocriminale sta avviando delle indagini delle immagini veramente sconcertanti Anche per questa volta è tutto Alla prossima